Secondo me Alessandro Gasma è stato davvero un grande, perché in un momento nel quale il vento oggettivamente andava in un senso forte e distruttivo, ha avuto il coraggio di andare contro corrente e a partire da un forte senso civico dimostrare che la testimonianza individuale può cambiare le cose. Quindi da romano gli dico grazie e da cittadino gli faccio i complimenti per il suo coraggio.